La squadra sta con fiducia, con grandi atteggiamenti. Oggi abbiamo fatto una partita di grande carattere. Anche quando abbiamo preso il gol, la squadra ha reagito con ambizione, con coraggio. Miki ha fatto tre gol, ma quello che è importante è che la squadra ha vinto. Abbiamo solo sbagliato in un momento della partita, defensivamente. Loro hanno fatto il gol, ma abbiamo fatto tre e abbiamo avuto la possibilità di fare quattro, cinque gol. E' importante sentire che la squadra ha questa ambizione. Anche nel momento in cui abbiamo sbagliato abbiamo reagito molto bene. Ecco, adesso la classifica si fa più interessante. Che rispetture ha lei in questo momento? Solo pensare alla prossima partita. Ovviamente stiamo lavorando bene, stiamo soddisfatti con le vittorie, ma dobbiamo mantenere l'equilibrio e pensare solo alla prossima partita.